Eccellenza, a scalea per la mensa solidale, un evento in questi tempi molto molto importante? Ma io sto dicendo anche ad altri emittenti che mi hanno chiesto, a altri vostri colleghi, che la leggo come un segno di bello, di apertura, positivo, un segno dei tempi, perché la realtà oggi sociale necessita di questi segni per tutti, in modo che il cuore dell'uomo si apra anche. Io direi non solo i valori in sé della mensa per chi ne ha bisogno, ma anche come fatto educativo, perché ci aiuta a capire che l'uomo non è un'isola, non è una persona che può vivere da solo, che ha bisogno di entregarsi con gli altri. E quando doniamo agli altri il cuore nostro si dilata, Gesù dice che c'è più gioia nel dare che nel ricevere, dobbiamo sperimentare di più noi. A partire dalla Chiesa, certamente io mi metto in discussione come persona, come responsabile della Chiesa di Ocesana, che in questa occasione collabora con le istituzioni. Mi fa molto piacere questo. La Caritas e l'amministrazione comunale insieme per un evento, come dicevo, di grande importanza? Sì, le Caritas delle parrocchie, Corri del Comune e la provincia, anche dato il suo contributo, perché questa iniziativa potesse partire. E credo che sia bello, anche questo è un fatto positivo, che noi non ci chiudiamo secondo steccati o ideologie o forme antiche di chiusura, ma ci apriamo rispondendo ai bisogni dell'uomo, perché l'uomo è l'immagine di Dio che vive in mezzo a noi. Non solo stranieri, ma in questi momenti anche qualche italiano verrà. Ma a questo punto non si può fare la distinzione. Questa è una realtà molto aperta, ci saranno molti immigrati, quindi certamente rispetto ad altre ci avrà una percentuale di esterni, diciamo così. Però ormai rispondiamo ai bisogni. Chiunque, la Caritas in questo, grazie a Diamo, la Caritas romana, la Caritas nazionale, su questo e da tanti anni che è sul campo dell'accoglienza senza guardare nessuno, nemmeno la fede, nemmeno la fede religiosa, assolutamente. Si nota un forte entusiasmo fra i volontari delle tante associazioni che hanno aderito a questa lodevole iniziativa. Ecco, questo diceva, il valore forse primario rispetto a quello di dare dei prodotti, di offrire una mensa, perché abilita i giovani ad aprirsi, a sacrificarsi, a donare. Questo è molto bello, un fatto educativo molto bello. Autore dei sottotitoli a cura di QTSS